Ad Avellino si chiude un 2017 difficile, con la speranza che tante questioni ancora aperte possano trovare compimento nel 2018. Dai rifiuti ai cantieri, dalla mobilità al dramma lavoro, il nuovo anno porterà con sé sfide e obiettivi, vecchi e nuovi. Bisognerà anzitutto chiudere la partita delle opere pubbliche in città. Il tunnel, l'eterna incompiuta su tutte, ma anche mercatone e centro per l'autismo, per il quale siamo vicini all'apertura. Poi il nuovo corso della differenziata, all'inizio sembra incoraggiante per quella che si annuncia una rivoluzione e una battaglia anche di civiltà. Una spina nel fianco sono gli spazi culturali, l'Eliseo resta chiuso e il teatro Gesualdo ancora senza cartellone. L'urbanistica spera nell'attuazione concreta di un'area vasta che punterà soprattutto sul rilancio ferroviario, mentre l'ambiente dovrà fare i conti con i dati allarmanti delle polveri sottili. Un terminal, quello di Piazza Kennedy, perennemente contestato e una mobilità alternativa che stenta a partire. Sono andati giù i silos dell'ex isochimica e ora Borgo Ferrovia aspetta una riqualificazione profonda per non essere più periferia degradata. Gli ex parcheggiatori restano in presidio al comune da mesi senza stipendio, in attesa di un bando che possa rioccuparli nel mondo del lavoro. Ma soprattutto il 2018 si aprirà nel ricordo di Angelo Lanzaro, la tragedia del freddo e dell'indifferenza vissuta nel mercatone la notte del 6 gennaio 2017. Un nuovo dormitorio promesso ai senza tetto e le politiche sociali chiamate a battere un colpo in città, anche sul fronte dei migranti e dell'assistenza Sprar. Vecchie e nuove sfide dell'Avellino che saluta il 2017 e dà il benvenuto al 2018.